E' un tunnel, un tunnel buio, soffocante, e ti sembra quasi normale. Il buio, il freddo, la paura. Non ricordi nemmeno che c'era un prima, prima, fatto di luce, di aria, di libertà. Ma sei troppo impegnata a sopravvivere per pensare a vivere. Ma una via d'uscita esiste, è davanti ai tuoi occhi. Abbassa la maniglia, apri la porta, chiedi aiuto, torna a vivere. Io lotto. L'iniziativa promossa dal Comune di Napoli è finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio. Fatti ascoltare. Chiama il 1522 o scrivici in chat.